Assoluto tutto quanto, me ha già la stagesta dei notizieri. Se l'avevi brise che pè, me ha già brisa e bologna. Ma che sai vlivi ma feri? Bisogna fare con qualche scata, perché quei tre là, Aldo, Ettore e quella donna, sono andati in ferie e mi hanno lasciato il compito di dire e adesso, amici e amici, al vainando, al notizieri, Fatti, idee e miracoli, in cinque minuti e senza sudare troppo. Vamola! Oh, Ettore, bang, 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 mi spondera a fare che il manino e il pass al mare, oh Dio, c'è il detto, me, ma guarda un bambulire, ma mi investo, la com'era, me, a vaga a fare un manino e il pass al mare dopo qualche andet malandrine veroniche, e cantare corpi, oh vero, ti usi memori, ma no, 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 stiamo da vader, ed opta ma di poter, ste voi ancora ad andare a venire al pass, al mare, quelli che nei weekend fanno al mare, sette ore di coda ad andare, ma vuoi metterla via quando siedi a mangiare, che roba, che bello, che a fare? Allora, ieri, ieri, sono stato a Cesenatico, Cesenatico, da Benito, a Benito, lo conoscevo da Benito, una volta, quelle robe, beh, se non conosci da Benito non entri, neanche a Camonate non entri da Benito, si, da una palla buona, quella casalinga, devi essere un po' raccomandato, come tutte le cose d'Italia, beh, allora, per farvela breve, cosa hai mangiato? eravamo io, i miei bambini, mia moglie, dunque, tre fritti di pesce, si, il primo? degli spaghetti, frutti di mare, due, sognioline, sognioline, pesciolini freschi, appena scongelati, frutta, caffè, gelato per i bambini, amaro, allora, di, di, di quanto speso, dai, dai, da Benito, 110, 120 euro, una cosa così, eh? 78 euro! Ma che buzzer, ma in totale? No, a testa. Quelli che fanno il mare addorbire, belli sì che puoi riposare, non di bello se è il mare, chi ti può disturbare, che roba, che bello, che affare, eh? Venti, ballo, sai cosa ti dico? Io sto qui, sto in città, c'è la crisi, non mi va, sono all'erci con i risciò, alle alberi, ai pedalo, ai dirri, ai ragazzini, sulle dure con gli spi, facci tu, io sto qui, vado io alla città, facci tu, io sto qui, facci tu, io sto qui, facci tu, facci tu, io sto qui, facci tu, io sto qui, facci tu, facci tu, fanno lì, fanno lì, no? l'estate rin città. Buio, 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 buio. Ehi, vai, lo sa potta, Quasi tutta, buonasera, benvenuti Siamo al teatro delle celebrazioni quindi a Saragozza Qui va proprio sotto la Villa delle Rose Dove ci sarà la famosa manifestazione di Bologna estate 2013 Tale discount con Roberto Manavrini e Paola Maria Veronica Che comincia lì? Che comincia il 9 di luglio No ma non so che fa leggerlo Ma male, sa? Ma non so che fa leggerlo Ma non so che fa leggerlo Che qua, tra le altre cose, oltre ad arrivare con la modica cifra di 12 euro Si può anche mangiare cucina La taglia a terra, la taglia a terra Proprio la cucina tipica bolognese E poi chi c'è ancora? Ci sarà danza, teatro, cabaret, musica, cantanti, attori E poi l'evento di Bologna estate non diventa le cucine Tale 9 di luglio, tutte le sere Arriviamo alla fine d'agosto, ferragosto completo Una tozza rappresente a Doiani e a Genio Portolini Siate con noi e venite a vedere Avviva delle rose e canne di scala Au revoir A presto! A presto!